Una grossa pietra scagliata contro il vetro che ha mandato in frantumi la teca che custodiva preziosi oggetti e paramenti sacri. Furto sacrilego nel santuario della Madonna del Carmine a Salerno. Portati via un calice e uno stensorio del 1700, il rettore dell'edificio di culto Don Biagio Napoletano, a 696 TV, non nasconde il proprio dolore per l'accaduto. Purtroppo abbiamo avuto una sgraditissima visita da parte dei ladri. Avevamo intenzione di tenere aperto il santuario perché l'unica chiesa è la città, anche centrale, in orari non consoni, al pomeriggio, primo pomeriggio, oppure a sera, fin su tardi. Il furto è già un peccato dal punto di vista morale, ma è soprattutto un sacchileggio, sia perché si viene a sottrarre a Maria un dono, ma sia perché in questi oggetti vasi sacri c'è il sangue di Cristo, viene esposta l'ostia consacrata. E questa è l'amarezza di gente che offende la città, non si dimostrano uomini veri, autentici, rispettosi anche degli altri. Esiste il bisogno, la povertà, ma ci sono altri modi per poter procurarsi di che vivere, non certamente sottraendo oggetti sacri. Questo è il nostro rammarico. L'augurio che si convertano, capiscono la gravità del loro gesto. Grazie.